e aciutto ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di esplorazione dei siti che in realtà non esploriamo un sito e siamo invece con Michela0707 e AleDigitale e allora in questa puntata ficca vi insegnerò come installare la Pixelmon con cui giochiamo noi di solito prima cosa dovete andare su questo sito che è www.technicpack.net.com vi lascerò il link e appena andati su questo link dovete vedere quale computer avete Windows, Mac o Pinguino se avete il video adesso Ale stai zitto comunque vediamo praticamente qualunque pc computer abbiate dovete schiacciare sulla marker del vostro io ho Windows schiacciandoci sopra vi verrà salva file di installarlo ma io ce l'ho già quindi non ne ho bisogno posso anche chiudere questa pagina perché io ce l'ho già vi ho fatto solo vedere come installarlo quando ce l'avete dovrebbe esservi così techniclauncher.exe una roba del genere quindi doppio clic sopra cavolo l'avevo già aperto vabbè e praticamente a me viene così perché ho il server pack ecco appunto ne ho aperto un altro che bello ah è vero così vi faccio vedere meglio dall'inizio quando aprirete per la prima volta dovrete registrarvi col vostro account di Minecraft cioè nome utente la vostra mail di Minecraft e password la password dell'account di Minecraft poi quando avrete fatto giusto vi verrà la schermata così andando su modpack qui in alto dovrete cercare qui se volete giocare con noi pixelmon più dovrebbe essere la prima che vi viene se no dovete schiacciare anche il più sulla vostra tastiera che io non trovo quasi mai ah ok vabbè così e la prima che vi viene pixelmon più questa qua server pack e dovete installarla qua in basso a destra e facendo installa ve la installerà voi dovete schiacciare su gioca se volete giocarci e vi farò vedere un po' cosa dovrete fare anche all'interno Ale stai zitto vi farò vedere quando avrà tutto finito di solito è abbastanza veloce oppure il mio computer che è veloce ci sentiamo fra 5 minuti quando avrà finito a dopo ok rega quando avrete fatto tutto vi dovrebbe venire questo io non metto mai a schermintero se volete giocare con noi andate su multigiocatore primo server official 1 e vi ritroverete nei miei panni cioè no nei vostri panni nel senso io entro e sono io diciamo per me è così sì beh dai che non mi risponde vergugnate ok caricamento del terreno intanto Alessandro mette la canzone del troll e vedete io sono entrato nella serie pixelmon mia se vedete con solosis non è per battere Michele solo che mi piace un sacco come pokemon e quindi lo voglio fare ma perché fa gravele sott'acqua in the uniclus ciao Michele praticamente sta giocando a un suo modpack ho attivato la berserk non ci credo adesso rifare il tifoso fatto ah 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 erano solo 6 blocchi sì che vuoi ma non mi ha mutato yeah sono perché ho fatto una musica strana ah sì perché stavo aggendo una troll questo è un video breve si può vedere anche da qua quanto dura però perché era solo per farvi vedere come installare come giocare con noi vi ricordo di scriverci nei commenti il vostro nome su minecraft se volete giocare con noi magari entrare anche nella serie quindi mi racciomando mi racciomando ehm se non potete scriverci nei commenti magari ci trovate online sul server ci scrivete dice oh Andrea 7689 wow e così possiamo giocare insieme beh c'è tutti i PA tanto non potete ammazzarmi anche perché lì è claimato quindi ah 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 e potremmo giocare insieme tanto mi faccio livellare solo osis solo osis ecco esatto Ali ha fatto il verso giusto ah sì qua ho fatto un cartello Andrea è un cartello offensivo ratta ta mangia ma che ma che aspetta su youtube ho trovato un tizio che dice oh mamu mamu vediamo se era vero stiamo delirando signori facciamo anche un po' di cavolate mentre siamo in rec perché voi non sapete cosa facciamo fuori dalla rec ci sbizzarriamo ma do ah posso darla ucceino ucceino vieni qua il mio uccello vince tutto ah che bello hai recuperato tutta la vita come sprecare pozioni cosa brutta ragazzi sì sapete sapete che io ho un caro amico che si chiama cose wow ce l'ho presente un giorno anche ora che presento cose ciao è un pochino inglese lo sapete raga ma non è un coso di youtube secondo me è un tizio di youtube per i miei gusti perché è tipo elettronica la sua voce ciao è un amico allora allora fagli dire caccapupu lo sapevo che era una cosa di internet fagli dire caccapupu scusate inglese non riesce a dire le cose zio oh calma secondo me è un'applicazione diciamo che un file che usa su computer che ti fa la tua voce in strani versi io ci scommetto quasi quello che volete vero Ale la verità si dice sempre capito no le cose finte intanto 3500 soldi perché ho votato e quindi mi hanno dato i soldi quindi vediamo il gts e pokemon interessanti snorlax lucario 7000 ulpix sandal cinchar cinchar pupitar roggenrola da quanto non sentivo quel nome mister mime teddy teddy ursa vuole andrea adesso devi sentire cosa dice pronto si vuole tu stai prendendo in giro l'inglese ti rendi conto dice come dice come fumanza mamma mia mamma mia l'ho già detto che fuma troppo non è colpa di nessuno ci spiace per eventuali problemi con lui se lo incontrate per strada potrebbe essere sotto un ponte a chiedere l'elemosina non lo sappiamo che ne so scusa devo inventarmi qualcosa da dire e che caos anche guarda che cosa gli amico cose gli amico cose ti ho detto lascia stare ale però in inglese dai zio per favore in italiano esiste vabbè allora vabbè sei detto secondo me è l'app di PewDiePie attenzione sgamato hai pagato 5 euro per l'app di PewDiePie non ci credo non sa dire molto PewDiePie ce lo dice pure ma PewDiePie è così e non è che si pronuncia il suo nome lui ha comprato con soldi tarocchi l'app di PewDiePie bla 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 non è che cosa ditte agaragaga shish vabbè buonanotte itch water bucket challenge ce l'ho fatta non ci credo no 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 tu non sei entei no 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 tu non sei entei no tu non sei entei io sto sognando sono no vabbè ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video no scherzo ciao 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 cos'è che dice il tuo amico inglese Ale ciao 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 dai questa qua zero di... ma che cavolo uves 때문에 niente face? niente cosa dite? niente chiici cosa dite? ti器zi lì ciascuno يfallò kaç át top to to pà Chirando le mucche, povero me, paffè è una dema che... La fine du picchier! No, in realtà era la fine di Michele, però va bene. Che muore male! Che muore male! Che muore male. No! È scusato. Ma comunque ragazzi, tra le mucche, io penso che questo video si possa concludere qui. Esatto! E noi ci vediamo al prossimo video.